Avevo in programma di fare questo video? No! Sono uno che cerca di fare video a chiapa views? No! Il mio canale risorge solo in periodi strategici dove ci sono appunto i video a chiapa views? No! Questo sarà un video a chiapa views? Probabilmente sì! Quindi cominciamo subito! Perché tutto questo intro vi starete chiedendo? Si immagino che ve lo starete chiedendo! Semplicemente perché ho visto che in giro, in questo periodo di Pasqua, compaiono, si risvegliano, rinascono, risorgono canali ormai sepolti da mesi se non anni dalla Pasqua precedente dove si spacchettano le uova di Pasqua perché ragazzi le uova di Pasqua tendenzialmente su YouTube fanno visualizzazioni e le visualizzazioni fanno monetizzare e monetizzare vuol dire guadagnare soldi. Quindi quando ho notato questa cosa ho pensato lo faccio anch'io? No! Non lo faccio! Perché non è una cosa che mi piace fare! Perché non mi piace andare a fare video in cerca di views, in cerca di qualche centesimo, di qualche euro per niente! E quindi non volevo quest'anno farvi video sulle uova di Pasqua ma poi mi sono state regalate due uova di Pasqua e ho detto chi sono io che sono sempre costante per non provare a fare un video con le uova di Pasqua e facciamolo questo video con le uova di Pasqua anche perché sono curioso perché mi sono state regalate due uova una è questa qui di Frozen, Kinder Gran Sorpresa di Frozen, Frozen 2, Frozen generico infatti se non sbaglio si possono trovare cose sia di Frozen 1 che di Frozen 2 e poi mi è stato regalato anche questo qui delle LOL che questo qui è di dolci preziosi con il cioccolato finissimo al latte che l'anno scorso io ero convinto che finissimo volesse dire sottile poi grazie a voi ho capito che finissimo è un modo per dire un cioccolato di alta qualità e sono contento di averlo scoperto perché sennò io sarei andato avanti a credere che finissimo volesse dire sottile ma ok e quindi oggi ragazzi li apriremo tutti e due perché non mi interessa fare due video diversi con due cose diverse facciamo un video dove li apriamo entrambi non so dirvi i prezzi nel senso che appunto essendomi stati regalati non so i prezzi sicuramente questo di dolci preziosi costerà molto meno di questo qui della Kinder credo che questo qui comunque superi i 10 euro ma sicuramente lo saprete meglio di me perché settimane che girano video su video sulle uova di Pasqua io arrivo in ritardo anzi non volevo neanche arrivare ma ci siamo facciamolo proviamoci e questo qui invece credo che sarà sui 5-6 euro una cosa del genere ho paura per la sorpresa soprattutto di questo perché di questo qui ho già visto che le sorprese non sono male alcune da quanto ho capito sono iper reciclate le stesse identiche dell'anno scorso ma hanno aggiunto una che io vorrei tantissimo ma ve lo dico dopo perché intanto direi di cominciare da questo qui del lol io non sto neanche qui tanto strappiamo tutto che tanto non mi frega niente e hanno cambiato la lol almeno le sorprese all'interno secondo voi saranno identiche probabilmente vero? qui fuori hanno messo una lol che però io non ho mai visto anche i capelli sarà della serie hair amazing hair qualcosa la lol che hanno messo è questa qui e c'è ovviamente il logo con l'immagine della lol uovo di Pasqua senza glutine subito per te una sorpresa all'interno dolci preziosi cioccolato finissimo uovo di Pasqua e ovviamente non c'è il prezzo vero? perché vorrei dirvi i prezzi ma non ci sono mai no non c'è alcun tipo di prezzo vabbè allora oh c'è un cordino questo è un miracolo hanno capito che ci vogliono i cordini nelle uova di Pasqua ma mi sa che di qua non c'è no infatti di qua non c'è vabbè apriamo questo cordino che è un po' più semplice in teoria dell'altro da aprire ma comunque mi sta spaccando le mani no ce l'abbiamo fatta e questo è l'uovo all'interno strano ma vero è ancora integro non so se vi ricordate quel video dove di qualche anno fa dove vi ho fatto appunto un video con le uova di Pasqua mi pare proprio quello delle lol era sul tavolo e durante il video mi è crollato giù dalla scrivania si è spappolato proprio in diretta ma fa lo stesso diretta diretta per dire questo però mi sono mmm che profumo ho già la merenda pronta questo quanto pesa? 150 grammi quello delle lol invece l'altro pesa 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 150 grammi solo che costa il doppio allora questo è l'uovo con il suo cazzino qui sotto e no direi di aprire la carta e di andare a romperlo all'interno della sua carta mi stava volando anche quello di Frozen allora e andiamo ad aprirlo wow wow una cosa più riciclata di questa non pensavo potesse esserci praticamente ma credo che saranno tutti uguali all'interno di questo uovo c'è ma è chiuso con lo scotch? è chiuso con i pezzi di scotch perché? non la capisco questa co... boh vabbè lo stesso che tristezza MGA o dolci preziosi perché dico MGA e dolci preziosi che fa ste cose? sì vabbè non dovrei stupirmi c'è praticamente questa roba qui che adesso lo sistemo così vi faccio vedere praticamente è un insieme di adesivi che vanno infilati da questa parte eccolo qua vediamo se ci riesco mi sento molto spastico e anche molto deluso fossi un bimbo mi sarei già scazzato ok c'è questa scatolina di una banalità assurda con scritto che contiene tanti fantastici sticker let's be friends collect lol sì vabbè e praticamente ragazzi da qui noi tiriamo e viene fuori la strisciolina con gli sticker che poi si incastra pure quindi che cazzo di strisciolina è fatto con il culo proprio sto coso? non so se si riesce a vedere ma ci sono gli sticker con le lol io non dico tanto perché non dico tanto però non lo so un accessorio per le lol un accessorio per le omg no vabbè per le omg sarebbe troppo sarebbe una cosa troppo ficca e in totale dentro questo è il rotolo di adesivi tutto qua non c'è altro interessante mentre passa la macchina che non so se voi la sentiate ma comunque sta andando via una macchina io risistemo il tutto così metto via e apriamo quello di frozen anzi no mi mangio un pezzettino di cioccolata prima vabbè mettiamo via questo che comunque allora non è una cosa brutta nel senso che non è un brutto pensierino però potevano far di più il cioccolato sarà sempre quello cacao minimo 31% scusate ma il restante 70% che cazzo è? sì è zucchero come sempre però è buono devo dire che il cioccolato dolci preziosi ha sempre quel sapore da finto cioccolato vabbè rimane qua ma perché casca tutto? beh lo prenderò dopo dicevo che il cioccolato dolci preziosi ha sempre quel sapore da cioccolato dei calendari dell'avvento ecco quello volevo dire proprio quel cioccolato che a me piace un casino ma è palesemente un cioccolato super scadente infatti credo che non sia proprio finissimo questo cioccolato comunque io direi di proseguire con quello di Frozen che c'è anche no scarica l'app gratuita che coglioni ancora l'anno scorso ho fatto quello di Barbie mi sembrava di diventare scemo con quell'app lì vabbè proviamo qui ci fanno vedere come sempre Kinder Gran Sorpresa con Elsa e Anna e anche qui a lato c'è scritto il discorso dell'app mamma se le odio queste cose era tanto bello giocare solamente con i giochini adesso si si nascondono dietro alle app e andiamo ad aprire sta cosa che però è scotch qui c'è del maledettissimo scotch che io non so come aprire perché non ho neanche delle forbici o forse sì vado a vedere ok ho trovato le forbici anche perché mi servono per il video che devo registrarvi tra poco perché c'è un'altra novità che non c'entra assolutamente niente con la Pasqua credo mio Dio ma è una roba cioè si fa prima a fare così spam e spaccare tutto qua si sclera di meno giriamo ma che tristezza è aprire un uovo con tutto questo scotch vabbè apriamo tutto è intero è intero è intero l'uovo è questo qui e pesa decisamente di più dai che riesco a frantumarlo dai che riesco a farlo esplodere ok è un'altra cosa allora vi stavo dicendo prima che una cosa scusate la maleducazione è parlare con la bocca piena avete ragione vi stavo dicendo che spererei di trovare una cosa che mi pare abbiano aggiunto quest'anno ed è Elsa vestita con il pigiama io ragazzi tra tutte le versioni di Elsa tra Frozen 1 e Frozen 2 mi sono innamorato della versione in pigiama vorrei una limited edition la vorrei grande la vorrei piccola la vorrei fatta da chiunque perché a me quel vestito piace da morire e lei con quel vestito mi piace da morire ovviamente in bambola l'hanno realizzata una volta sola è anche abbastanza semplice il limited edition non me l'hanno fatta quindi potrei accontentarmi di quella dell'uovo ma secondo voi sarò così fortunato proviamo a vedere io spero di non aver trovato Olaf spero di non aver trovato Olaf spero di non aver trovato Elsa ho trovato Elsa ma Elsa non quella Elsa peccato allora montiamo questa Elsa che sto già impazzendo allora c'è la gonna che va infilata sulle gambe suppongo poi c'è il busto che va infilato sulla gonna e poi c'è il mantello che va infilato nella schiena circa ok e poi c'è questa roba qui questa roba qui che dove va questa roba qui andiamo a vedere perché assieme a lei ovviamente arrivano anche tipo il fogliettino è carino dai però il fogliettino nella parte frontale c'è l'immagine di Anna e Elsa insieme sul retro ci fanno vedere quella che abbiamo trovato e il discorso dell'applicazione che adesso vedremo e dentro ok che cosa triste dentro ci danno le istruzioni sul montaggio ci spiegano cos'è ma oltre ad esserci questa Elsa che di colorato ha solo il viso il resto è di una semplicità assurda non lo so forse era più bella quella dell'anno scorso c'è questo fiocco di neve che io pensavo così come lo vedete bene pensavo fosse tipo o la sua base o una cosa da tenere in mano e invece no è semplicemente per fare i disegnini del fiocco di neve su un foglio o da mettere in testa come come ferma capelli cioè come se adesso io facessi così nel mio cappello eccolo lì e lo tenessi così circa non mi vedo è giusto beh posso anche tenerlo lì poi ci sono degli adesivi che nemmeno negli adesivi c'è quella che piace a me neanche negli adesivi perché questi sono gli adesivi ci sono delle immagini di Frozen 2 ma non c'è Elsa in pigiama io voglio Elsa in pigiama cazzo vabbè comunque se adesso trovassi qui sotto il mio telefono che non capisco più dove sia eccolo qua andrei anche a scannerizzare questa cosa perché assieme all'uovo insieme alla sorpresa arriva anche la cartolina cartolina questa cosa qui devo dire che di roba qui dentro comunque ce n'è perché troviamo un po' di roba qui c'è l'immagine qui dietro ci sono le spiegazioni e qui sotto il QR code quindi andiamo a prendere la fotocamera del mio telefono inquadriamo il QR code andiamo su kinder.com che mi apre ok giochi di famiglia download apply che cazzo è sta roba apply do è questa ottieni scarichiamo ci metterà tre giorni a scaricarla visto che qui non prende una mazza vuoi scaricare utilizzando i dati del cellulare 400 mega vabbè scarichiamo 400 mega di un cazzo perché poi la cancellerò tipo in un nanosecondo 400 mega credo che vi farò un bel taglio perché qui come vi ripeto prende poco e staremo qua un quarto d'ora forse anche di più cioè deve ancora iniziare il download ok è cominciato sì vabbè ciao domani mattina siamo ancora qua vabbè facciamo scaricare e a dolci preziosi non dovrebbero neanche più farvi le uova secondo me questa cosa a casa non ci arriva ho questo brutto dubbio secondo me questo arriva tutto qui in fronte domani così dopo giulio e ubaldo uscirà anche fulvio che sono i nomi che do i brufoli sì ragazzi direi che stop la registrazione e ci vediamo tra un attimo perché non riesce a scaricarmi l'app ok ci siamo dopo la bellezza di 25 minuti l'ha scaricata quindi faccio partire subito la registrazione dello schermo così vediamo questa cacchio di app ho la sedia che non sta ferma apriamola e ok mi fa girare immaginavo app app play do app play do imagine play explore termine di utilizzo accetta per forza vorrebbe accedere al microfono continua sì consenti sì che coglioni però no non voglio le notizie inserisci ma che palle non si può andare avanti basta inserisci un nome manuel no manu mi piace di più manu le selezionate le difficoltà del gioco facile avanti l'eroe delle mie nuove storie è con i capelli rosa come voglio rifarmeli io dai per piacere cominciamo con ma devo fare tutta sta solfa cominciamo con il colore della pelle allora questo dov'è ma un po' scorino mi piace ok oddio mio anche l'acconciatura ne prendiamo questa va benissimo il colore dei capelli fucsia colore degli occhi lo mettiamo stagno come i miei andiamo mano perfetto dammi sì fammi scansionare il mio personaggio da qua in teoria vediamo scusate ma sta cosa è infinita mi si è bloccato tutto cioè è impossibile che mi si sia bloccato il telefono ah ok allora sì ecco questo qui è quel macello che ho sul mio tavolo scansioniamo il codice che velocità carichiamo il tuo personaggio sì ho capito ah lo vedo qua beh bello wow che spettacolo Elsa e quindi cosa devo fare cosa devo cioè giochiamo la caccia pasquale con la realtà aumentata andiamo inquadra la superficie ah sì beh posso dirvi che mi sto già rompendo il cazzo di questa cosa io vi faccio anche sì che poi belli non so cosa dire troviamo gli oggetti nascosti gli oggetti nascosti erano qua uno e questo qua prendilo cosa devo eccolo lì due no vabbè dai è anche simpatico non è male però insomma vabbè ragazzi mi sono anche rotto il cazzo ok voglio uscire continua no esci esci ciao Elsa ciao bene direi un aggiornamento ma vaffanculo anche l'aggiornamento 400 megabyte anche l'aggiornamento beh vi ho fatto vedere un accenno dell'app se volete scaricarla io non lo so proverò magari a giochichiarci dopo visto che ormai l'ho scaricata ce l'ho lì non è fatta male come le altre devo dire che l'app di Barbie era molto peggio questa qui non è male quest'anno hanno probabilmente migliorato un sacco di cose io nel frattempo sì sono ancora qui con il mio coso bello devo ricordarmi di toglierlo se non poi vado in giro con quel coso in testa comunque non ho voluto rompervi tanto le balle con il giochino perché ragazzi avete più o meno intuito di cosa si tratta per il resto era ovvio che io non avessi l'elsa che volevo io e non c'è neanche una checklist di cosa possiamo trovare in ogni caso ecco ho aperto anche io le mie due uova di Pasqua ho già mal di stomaco perché questo è quello che è rimasto di un uovo il resto è già andato mangiato tutto e praticamente questo è quello che rimane dell'altro e ho un po' di mal di pancia però mi passerà in ogni caso spero ragazzi di avervi tenuto compagnia magari vi è stato anche utile questo video non lo so ma penso che bene o male le avrete già viste le sono prese dagli altri ma comunque speriamo di aver fatto qualche visualizzazione detto questo fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate fatemi sapere che uova di Pasqua avete acquistato voi questo sì sono curioso di saperlo fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate lasciatemi un like come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto sappiate che stanno per arrivare un sacco di recensioni perché ho ancora un sacco di cose da recensirvi come sempre sono anche su Instagram e TikTok non dimenticate di andare a seguirmi anche lì io intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video e cercate di mangiare meno cioccolata di quella che sto mangiando io in questo momento perché ho veramente i crampi allo stomaco